Benvenuto a tutti amici ed amiche di Switch & Chill, io sono Lorenzo Mango, giornalista video lurico non pudico e content credo sul web oggi in veste di pullatore su Zenless Zone Zero che se seguite le mie live su Twitch mi avete visto giocare per un tempo abbastanza breve ma che in realtà poi nel mio privato ho proseguito in maniera abbastanza criminale di nascosto senza che nessuno lo sapesse, mi vedesse un po' vergognandomi di me stesso Giochi a un gacha, tu sei matto nella testa, sì, matto per Gesù, no, matto per le pull di questo gioco perché i personaggi mi piacciono tanto, perché il gameplay giocato come lo sto giocando io, ripeto, scherzando di nascosto eccetera però vuol dire col cellulare, con il controller per il cellulare appiccicato sopra a tempo perso è effettivamente rilassante per me, succedono flash a schermo e ogni tanto ci scappa pure una mutandina così tanto per gradire mi metto la schermata, mi sono accorto oggi logando che c'era un numero molto interessante vicino all'oggettino chiamato Polychrome i Polychrome sono la valuta che si utilizza in Zenless Zone Zero per ottenere le pull che, sempre per chi non sapesse niente, ma allora che cazzo ci state facendo qua in questo video se non sapete manco cos'è una pull su un gioco game, su un gioco gacha significa aprire un pacchetto al cui interno non trovi carte delle signorine svestite signal search, ok? e con questa valuta che è 6070 noi ogni 150 di questo valuta possiamo ottenere un pull ogni 31 pull, che prima erano 800.000, ma come vi ho detto ho giocato un po', hai garantito un personaggio e o un oggetto di rango S in questo momento, come in tutti i gacha dell'universo da Genshin Impact in poi questo pacchetto specifico abbiamo garantito di ottenere questo personaggio qua che si chiama Ellen che come vedete è una gran bella sciaciona una coda da squalo, non indifferente, che non so come altro la usi oltre che per schiaffeggiare i suoi nemici però quando ci schiaffeggi i suoi nemici è obiettivamente molto molto forte ho qui con me collegato in questo momento fra l'altro un amico che mi... che conoscete, ripeto, se seguite le live il buon Twin, se vuole fare un saluto è legittimato a farlo eccolo qua che mi ha insegnato un altro sistema di piti ancora più bello che approfittando di questa cosa, prima di utilizzare questi 6000 polychrome che grazie mille a MiHoio, a Hoioverse e a tutto il circondario mi hanno mandato proprio per fare questo tipo di contenuto qua 6000 polychrome sono un bel po' di pull mi ha insegnato Enrico questo altro sistema e si va su Signal Shop si possono comprare in questo shop, nello shop utilizzando la valuta che c'è in alto, quel libricino che altri non è, che è una valuta che si ottiene pullando un pezzo di plastica del pacchetto lo metti da parte ogni pezzo di plastica va a comporre poi un libricino ogni libricino ti permette di avere altri pacchetti che è una roba talmente nascosta che io non sapevo neanche che esistesse ehi, se hai giocato a Zenless Zone Zero fino adesso sei un coglione non devi fare questi errori fai questa cosa Signal Search cominciamo con questi e quindi da qua posso sboostare qualunque cosa? allora, da qui puoi sboostare qualsiasi cosa è sullo standard quindi tutto tranne Ellen perché dovrebbe essere personaggio limitato vabbè tra benzi, non so se tu hai già pullato qui no, mai zero mai, mai fatto ci avviciniamo pericolosamente alla Piti perché siamo 80, la Piti è 90 io comincio, ho fatto 10 intanto, guarda e andiamo e vediamo che succede su S, B ok, guardate, non so se tu hai 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 guardate prego i primi pull sullo standard di multi costavano 8 invece che 10 e ho trovato un S oh ah abbiamo una S e una A chiedete pronti? pronti bimbi? questo è sempre A B mo ce l'è S oh, yeah yes signorina piedina Lei mettiamo signorina piedina perché quando è uscito il primo trailer di Genshin, sì di Genshin, di Zell Stone Zero L'unica cosa che faceva lei interessante è stata fare così con i piedi davanti allo schermo A tipo 3 centimetri dalla telecamera virtuale della serie Amanti dei piedi ne abbiamo anche per voi Di tutti i personaggi m***osi che potevo sbloccare tipo l'orso di m***a Lei è decisamente più interessante Anche a trovarci d'accordo e me lo dice spesso anche mio padre, che è un coionazzo però lui è un coionazzo Questo generico e un altro S è arrivato Attenzione che potrebbe benissimo essere l'orso di m***a No, era l'orso? L'orso incredibilmente è A Quindi abbiamo trovato un orso di m***a, ok Adesso è palesemente una palla S perché non ho trovato mai palle S Quante palle? E invece è proprio una palla E' la palla per l'orso poi Ma che schifo, ma che schifo Quella con la pet Lei Coleda Coleda, dovevi darmi coleda 6 pull Così a sbuffo E poi 6070 Ok Ok Eccolo, un S Potrebbe essere un c***a di oggetto del c***o, eh Ah, oddio che paura, visto che è l'A Ok, va bene Mi piace perché la voglio potenziata al massimo Lei perché è fortissima S S S Oddio, sempre A Oh, ma dove sta la S? C'era una S, l'ho vista Yes Andiamo a Berlino Beppe Andiamo a s**arci pesce Evviva, evviva Ellen e dei nostri E' quasi superfluo allora fare Le pull restanti Nel senso che me le tengo per altri banner Ci provi a potenziarlo con le copie aggiuntive Per quanto poi comunque ci siano dopo per le run Ok Puoi decidere che Magari Sokako ti interessa E quindi puoi provare con il rate up A continuare a pullare su questo banner E la cosa buona Desidero ardentemente Coleda E Coleda sarà sicuramente S La vado avanti perché tanto abbiamo visto abbastanza Guarda, adesso faccio la single search Sicuramente perché 21 mi dà proprio fastidio all'anima Dunque era un god pack quello di prima C'erano 3 A, la S C'era di tutto Molto potente E finalmente un personaggio femminile Che non ha 13 anni O che non è un drago di 2000 anni E poi Ellen Joe Potentissima Questa codina incredibile Ed è molto forte anche in game Lei Soldi ero 11 E anche lei nei TRS Molto forte Se non mi ricordo male Sukaku OES OEA Come rank E non me li ricordano tutte Però mi ricordo che anche la signorina gatta È cortina Lei La super mamma rina Io non vedo l'ora di sbloccarla Aspetto con ansia il momento in cui potrò Giocare nei suoi panni Detto questo Abbiamo Nerdato abbastanza Abbiamo sbavato abbastanza Ringrazio Enrico per l'inestimabile contributo Dato a questa live Senza di lui Senza di te Non avrei mai fatto le 70 pull Quelle altre sarebbero rimaste Per sempre lì Noi ci rivediamo In live su Twitch In realtà in questo periodo No Perché sto per andare In Giappone E quindi Mancherò per almeno due settimane Vi farò Mi farò vivo in realtà Su Instagram Quello sempre E su TikTok Anche quello Sempre la produzione Non si ferma mai Un abbraccio E come sempre Dal vostro giornalista Vittorico Non pudico E con te che lo sul web Stay chill Ciao 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 Tanto è un gioco d'azione Quindi ci devi avere le mani per giocarci A prescindere dal team che fa E così ha detto lui Poi stacchiamo entrambi E questo è vero Solo fino a un certo punto Però vabbè Vediamo se l'hanno cambiata Tra l'altro No non l'hanno cambiata È sempre una branda Con i ghiacciolli accanto Sì Dovrebbe essere tipo Quello che ti permette Di fare Shotser E non so Non capito Qual è la barra Perché del Deiz È quella sotto la vita E qui il Deiz È quello che gli stun Ti fa tagliare Tutti il squadro E poi la list non buoni Gli stun Che gli stringo A buildare Quella barra E congela su Automaticamente Vedete Tutti il cazzo Non capisco E poi Che gli brain Che gli indubbiamo Ogni Stravito Ad Professional Sì Sì